Beffa lo scadere. Per la precisione a minuto 89. È lì che si infrangono i sogni di grandezza della Gelbison. È lì che prende quote il bisceglie. Una rasoiata di lo greco non dà scamba a spicuzza e dà la stessa forza di un ceffone in pieno viso, perché fino ad allora, perfino il pari, sarebbe andato stretto ad una Gelbison piena di energia e di carattere, capace di rimediare ad una partenza folle con grande intensità e di sfiorare in almeno tre occasioni il gol della vittoria. Prende subito il predominio lavorando su un centrocampo strepitoso il bisceglie, con Guadalupi e Lanzillotta in mezzo, lo greco playmaker in posizione di esterno. È sulla classe del sempreverde Pietro Zotti ed ad undicesimo che proprio lui sblocca già il risultato. Manzillo è sufficiente e regala palla a Patierno, immediata l'imbucata centrale per Zotti che batte con frendezza spicuzza. La Gelbison va in tilt, non mette insieme tre passaggi consecutivi, diventa confusa e frenetica, butta sempre via il pallone e soffre tantissimo la pressione pugliese. Il bisceglie, padrone del campo, potrebbe raddoppiare in un paio di circostanze, ma spicuzza salva prima su Zotti al quindicesimo, poi su Patierno al diciannovesimo. Poi succede qualcosa a livello emotivo, la Gelbison ritrova a se stessa, alza il baricentro, riesce a dare ampiezza al gioco, si fionda negli spazi e mette paura la corazzata pugliese. Trovando pure il pari al venticinquesimo. Corner di Tricarico, stacco da dieci e lode di Itri, pallone alle spalle di Licastro. Cambia il copione della partita, quando c'è pressing i vari guadalupi e lo grieco non sono più mostri sacri. Puro loro vanno in difficoltà e la Gelbison col ritmo dà la sensazione di poter addirittura sorpassare. Due volte ci va vicina, la prima con Monzo, la seconda con Varriale, colpo di testa di poco a lato e rischia solo al trentanovesimo con Patierno che da fuori Spicuzza non si fa sorprendere. Nella ripresa aumentano ancora più i giri, Sorrentino si divora un gol a pochi passi dal portiere, in sforbiciata. Tricarico manca di pochissimo il bersaglio sul servizio di Monzo. Nel finale si risveglia il Bisceglie e Spicuzza fa un miracolo su Zotti, esattamente al trentaseiesimo del secondo tempo. Sorrentino ha la palla buona per il 2-1 ma manda a lato incredibilmente. Siamo al minuto trentotto e proprio al quarantaquattresimo arriva la doccia fredda, azione personale di Locrieco che indovina il gran tiro da 20 metri e batte Spicuzza leggermente fuori posizione, costretto a chinarsi ancora in pieno recupero sul tiro di Gallaccio imbeccato da Zotti.